Fratelli, conoscete bene l'impietosa fine che hanno fatto gli ultimi barbari che hanno osato varcare la nostra porta cittadina di bronzo scolpita. Urlate parole di morte al nemico perché oggi altro destino non lasceremo loro sul campo. Ben ritrovati spartani su Rome 2 Total War Imperium Edition, siamo pronti a fronteggiare a viso alto i potenti cinghiali che come ben sapete appartengono alla popolazione dei carnuti che cercano di piegare con questo assalto la bianca città di Bibracte. Ricordiamoci che l'esercito di guarnigione per quantità e qualità di uomini non potrà nulla contro il nemico che vanta quasi mille unità in più, senza dimenticare i mercenari. Quello che vi posso garantire che se oggi la difesa sarà nostra, la guerra contro i carnuti prenderà una piega per noi assai favorevole e se dovesse invece cadere la città, saremo pronti col pro d'endimio a riprendercela con la forza in pochissimi turni. L'importante adesso è fare male al barbaro che avanza, preparatevi uomini dunque in file, scendiamo sul campo, pronti ancora una volta a combattere assieme e a morire assieme, fianco a fianco, come veri fratelli. Ares il bellicoso viene adorato da secoli in questo grande tempio di Bibracte. In questa mattina il freddo pungente tocca in minima parte il mio corpo temprato da mille battaglie, perché sono consapevole che sarà nullo in confronto a quello che ci attenderà tra pochi istanti. Infatti al di là delle possenti mura della città bianca, i barbari si raccolgono sicuri di una vittoria epocale per il loro popolo, figlio di serpi degenerate. Io vi posso garantire che se saremo uniti scudo a scudo, lancia a lancia, saremo simili alle grandi pietre che cingono la nostra città spartana. Fratelli, conoscete bene l'impietosa fine che hanno fatto gli ultimi barbari che hanno osato varcare la nostra porta cittadina di bronzo scolpita. Urlate parole di morte al nemico perché oggi altro destino non lasceremo loro sul campo. Cominciamo dunque questa epica difesa di Bibracte assieme della città bianca. Come avete notato rispetto al passato, al precedente attacco che questa bellissima e lussureggiante città ha subito, i nemici hanno ben quattro scale a pioli e due poderosi a rieti. Dobbiamo cercare invece di colpire le scale, di colpire coloro che le spingono. E infatti in questo istante cercherò io stesso di prendere il comando delle nostre pro di baliste e cercare così con un altro tiro di una giara esplosiva di fare man bassa dei nemici. I colpi però sono troppo corti, dobbiamo cercare di alzare un po' il tiro e notate però quanto la precisione di queste macchine di morte non sia all'altezza della loro potenza. Spesso accade ciò, non dobbiamo però indugiare e cerchiamo dunque un altro colpo che questa volta arriva a lungo. Le mie abilità con le baliste sono diminuite e anche in questo caso il colpo si infrange e solamente i frammenti colpiscono gli scudi, frammenti innocenti logicamente, del barbaro nemico. La velocità con cui avanzano queste scale a pioli non vi deve intimorire. Avrete sicuramente notato che infatti mentre continuo a lanciare ho disposto e questa volta un colpo arriva meglio a danneggiare il nemico. Avete notato, stavo dicendo, che buona parte degli spartani è disposta sulle mura. Infatti dobbiamo riuscire a fermare in un primo momento l'avanzata perché come avete notato non sono certamente tiratori a spingere le enormi scale a pioli, bensì valenti barbari mentre un colpo impatta esattamente nel centro della scala più a destra, più esterna. A questo punto un altro colpo diretto, invece no, la scala ferma il nostro dardo. Lasciamo allora il lavoro sporco ai balistari mentre dirigiamo voi arcieri dalle mura con colpo infuocato che si dirigano sui guerrieri con lancia 79 su 80 in questo istante dobbiamo tenerli sotto un fuoco incessante infatti più uomini periranno sotto le mura prima di raggiungerle meglio per noi sarà. Notate intanto come la neve candida continui a cadere come se nulla fosse come se oggi nessun uomo dovesse morire cosa che invece succederà. Attenzione perché intanto i nostri arcieri riescono quasi ad appiccare il fuoco a una scalapioli mentre però altre due raggiungono il punto in cui quei maledetti possono assaltarci. Cerchiamo dunque di spostare un valente gruppo di opliti velocemente dovete accorrere per stoppare l'avanzata della prima scala mentre la seconda siete già disposti però ad aspettare il nemico ci sono spartani giovani mentre qui abbiamo appunto i nostri pro di opliti dobbiamo guerreggiare al meglio delle nostre possibilità per quanto sono consapevole che il nemico abbia degli uomini molto più esperti alla guerra unità ufficiali Attenzione perché il barbaro attacca anche con la terza scala che giunge quindi esattamente sui nostri arcieri che potranno ben poco contro le lame affilate degli invasori ma è questo quello che voglio vedere ovvero una carica sulle mura un combattimento all'ultimo sangue non lasceremo certamente Bibracte finché un uomo spartano sarà dritto sui piedi a respirare in questo istante invece il barbaro riesce a sfondare anche le porte della città ed è lì che troverà le nostre picche ancora una volta asserragliate infatti scuotiamo lo scudo e diciamo ai barbari venite avanti in realtà però i barbari optano per una via più subdola cercano infatti di prendere le mura alte e così facendo infatti se non erro assolutamente sì hanno stoppato la conquista in questo istante infatti le nostre bellissime porte non tirano sui nemici perché non sono conquistate da noi cerchiamo dunque di allargarci all'esterno e andare così a tamponare una possibile discesa del barbaro invasore ed ecco che infatti i nemici cominciano a scendere e si trovano a guerreggiare voi giovanissimi della guarnigione che avete poca esperienza ma abbraccia forti come si conviene a ogni spartano di qua invece abbiamo la brutalità del nostro grande generale che in realtà è il capo della guarnigione che aspetta e nella parte centrale invece voi tutti asserragliati che aspettate l'avanzata maggiore infatti sono quasi certo che il barbaro per quanto riguarda il suo capitano il suo generale meglio detto attaccherà proprio frontalmente sicuramente dalla porta principale mentre sta facendo avanzare anche tutti i suoi tiratori dobbiamo tenere infatti la posizione non dobbiamo permettere un aggiramento del nemico mentre come avete notato già uno standardo barbaro va in ritirata spostiamo nel frattempo i nostri due gruppi di fromboglieri loti dovremo usare queste unità nel modo migliore ovvero farle correre all'esterno dei nostri dispiegamenti per così colpire con una granola di colpi feroce il fianco del barbaro qualora si scoprisse nel frattempo dobbiamo continuare sempre a selezionare tutti i nostri gruppi di soldati facendo attenzione che siano disposti nel migliore dei modi cercherò così di raddoppiare più volte là dove la pugna infuria le nostre mura possono poco una volta scavalcate e questo non lo possiamo permettere dunque prendete la mira o voi fromboglieri loti e fate breccia nel cuore del nemico coi vostri dardi con i vostri sassi ed ecco infatti che la prima granola di colpi raggiunge alle spalle un gruppo di lancieri dei carnuti mentre continuerò a muovere avanti indietro quello che rimane dell'altro gruppo dei fromboglieri loti mentre ciò che ci interessa è esattamente davanti ai vostri occhi infatti il nemico comincia a pusciare è adesso che vorrà ottenere un vantaggio importante mentre notiamo come il capo della guarnigione stia rispettando il suo credo di vero soldato spartano colpendo chiunque scenda dalle mura con le sue picche e voi giovani spartani sopra le mura vi state comportando al meglio ma è troppo facile adesso parlare di una possibile vittoria perché di vittoria non vedo nulla anzi vedo possibilità di perdita per noi perché il nemico ci supera in qualità e quantità di tante volte cerchiamo di aiutare i giovani spartani che si trovano sopra le mura facendo avanzare i nostri fromboglieri e cercare così un tiro dall'alto mentre col nostro capo della guarnigione andremo a raddoppiare questo gruppo di giovani spartani che come vedete in alto dal quadrato rosso che rappresenta lo stato d'animo dei soldati questi si trovano infatti in difficoltà e saranno aiutati dal nostro prode generale che in questo momento entra a far parte della pugna è il momento dunque di un cut and down prorompente è questa la scena che voglio vedere non dovete arretrare di un passo dobbiamo infatti aggrapparci all'unica possibilità di salvezza ovvero tenere una alla volta tutte le aperture che scendono dall'alto e che permettono l'accesso alla città bianca abbiamo sconfitto in questo istante un altro manipolo di uomini ma sopra le mura stiamo perdendo il controllo infatti l'ultimo giovane spartano perde la fiducia e cade sotto le lance dei barbari immaginavo che sarebbe stato un massacro ma non di questa portata mentre i guerrieri con lancia che si trovavano a ritirarsi riacquistano l'ultimo secondo un po' di coraggio ma vengono nuovamente sovrastati dalla potenza del nostro generale i nostri fromboglieri loti che si trovavano sulle mura vengono adesso ingaggiati dai lanceri e questo sacrificio ci darà tempo per spostare nuovamente i nostri picchieri del capo della guarnigione per aspettarli mentre attenzione dei guerrieri gallici mercenari hanno fatto un giro tattico cercano infatti di attaccarci la cavalleria tarantina che comincia il suo tiro adesso ma dobbiamo portarla in salvo cercheremo infatti di portarci a spasso queste unità per le belle vie della nostra città bianca e nostra deve rimanere quindi io combatterò fino alla fine quindi voi farete lo stesso ma per ora non mi preoccupo perché state facendo il massimo per quanto possibile considerando che il nemico come bene avevo detto precedentemente si supera di due volte ricordatevi anche che in questi viali voi avete la precedenza voi avete il tiro libero che infatti ingaggia il nemico e altri due guerrieri gallici mercenari cadono sotto i vostri dardi e ancora una volta vi farò avanzare così da portare a spasso il nemico e non permettere lui alcun tipo difendente diretto in questo istante sembra che il nemico voglia far avanzare gli altri tiratori e allora dato che le mura sembrano sgombere cerchiamo di far salire i nostri fromboglieri per avere un tiro libero mentre la nostra ballista continua a fare un tiro e cercherò io stesso adesso di prendere la mira con cura ma ancora una volta la precisione di Atena non mi appoggia e cercherò allora di alzare leggermente il tiro che questa volta va a impattare nel centro di un asserogliamento facendo volare sangue e pezzi di arti di questi barbari maledetti che a torso nudo come se nulla fosse cercano di intimorirci a distanza ma un altro dei loro cade sotto un dardo preciso dobbiamo stare attenti però perché questo scontro è molto particolare non siamo abituati a combattere infatti nei centri cittadini e da questo punto di vista abbiamo fatto un piccolo errore lasciando per un secondo la cavalleria impattare con questi maledetti mercenari riprendiamo la distanza e vi consiglio adesso di mettere uomini miei un tiro infuocato in questo modo riusciremo ad applicare non solo un danno fisico ma anche un danno morale al nemico stesso attenzione però perché tirano e due dei nostri cavalieri almeno perdono la vita ma era chiaro dall'inizio nulla è facile per uno spartano e nulla è facile per chi vuole la conquista mondiale e non siamo qui per meno guardate che bella questa carica all'interno della città e soprattutto questa galoppata davanti al bellissimo tempio di Ares il tempio del dio della guerra nel frattempo stiamo tenendo nel migliore dei modi la parte centrale che è quella dove il nemico sta pushando mentre la cosa che mi sorprende è che esso non mandi sulle mura i suoi tiratori e questo dà a noi un grosso vantaggio un vantaggio però che dobbiamo cogliere perché a che servono le possibilità se poi non vengono sfruttate da uno stratega da un generale e soprattutto dai suoi uomini è questo il momento quindi di raddoppiare e di triplicare la nostra forza nello schieramento centrale mentre attenzione vedo in alto di conquistare un punto inseguendo i nostri cavalieri ma hanno sbagliato assolutamente la fazione non siamo infatti sprovveduti e con una carica diretta cerchiamo di spazzarlo via definitivamente ricordatevi che la cavalleria tarantira non è certamente atta a cariche di questo genere ma ricordate anche che un cavallo dall'alto dei suoi 300-400 kg può certamente spazzar via anche il più fiero dei barbari festeggiate uomini ma non è ancora il momento di brindare finché il generale nemico non avrà deposto le sue armi e soprattutto la sua vita non sarà strappata dalle vostre lance vedo però da questo punto di vista un altro stendardo che va ritirandosi non riescono infatti i maledetti a passare e guardate quanto è epico questo sprazzo dove spartani insanguinati sotto la neve ribadiscono che voi non passerete sporchi barbari la cavalleria la facciamo tornare direttamente verso l'asseraliamento principale mentre dall'alto come sempre cerchiamo di tirare a questi sprovveduti arcieri barbari che il generale nemico sicuro ancora di batterci lascia all'esterno e allora io vi dico di caricarlo e insegnare lui una volta per tutte che non è possibile uccidere uno spartano quando si trova all'interno delle mura e vorrei farvi notare anche come nella torcia a sinistra dell'entrata della città il sangue sgorghi e sia tutto imbrattato come imbrattata di paura e l'anima di questi maledetti fedeli al giuramento il mio scopo adesso è attivare la conquista delle porte e riuscire così a spazzare via il nemico con uno scroscio di olio bollente è questione di secondi sicuramente perché siamo tutti quanti all'interno del centro di conquista e guardate come il capo dei cinghiali Aramo cerca di tenere testa davanti ai nostri uomini ma non capisce che tra poco sarà cotto letteralmente infatti avete notato che stiamo per riprenderci il controllo della porta ed è questione di secondi prima che l'olio sgorgerà sui loro scudi vanificando così questo loro grossolano attacco è questione di secondi e la bandiera di sparta sarà nuovamente issata e con essa le sentinelle attiveranno dunque il caldo olio bollente è questo il momento spartani miei ed ecco colare sopra il barbaro una vera e propria lava che lo dimezza istantaneamente ed ecco che da 40 diventano 13 12 11 maledetti ancora e in questo istante muore il loro generale in questo istante noi abbiamo scritto la storia una vittoria epocale è stata una vittoria di misura assolutamente eroica infatti ci siamo mossi nel migliore dei modi il nemico a tergiversato con i suoi tiratori pensando che non fossero necessari per vincere la battaglia e questo è stato un errore che gli è costato una vittoria l'olio bollente ha fatto il resto conserviamo dunque la nostra amata bibracte che rimane del popolo di sparta e riusciremo da adesso in poi a sbloccare la situazione mondiale e finalmente riusciremo a recidere quel maledetto neo chiamato carnuti la resistenza è costata cara anche al nostro esercito infatti abbiamo perso ben 4 unità di guarnigione ma come potete notare i cinghiali hanno subito un affronto ben maggiore infatti come dicevamo precedentemente non rimane altro a loro se non i tiratori uccideremo i prigionieri in questo caso di schiavi ne abbiamo a sufficienza è il momento di infilarle testa dei carnuti catturati sulle picche da esporre nella bella città bianca uccidiamoli dunque e l'assedio viene tolto il 121 avanti cristo si apre con una nobile fine la fine di cneto un grande generale che muore per cause naturali ricorderete generale di atene si sviluppa un intrigo politico per quanto riguarda bacide e ce ne occuperemo molto presto ora che il grande generale cneto è passato a miglior vita dobbiamo trovare velocemente un valido sostituto andremo a selezionare l'unico delle famiglie reali perdendo così due geronti il nome di questo grande uomo è Ireneo e lo salutiamo e gli diamo il benvenuto nella bella città di atene finalmente abbiamo costruito il bosco delle ninfe per quanto riguarda genova mentre invece l'agente nemico dei carnuti de uonia attacca eufro effettuando un massacro una cosa che fa sorridere è che per il nostro girolamo capofazione arriva un nuovo aiutante sgualdrina non c'è niente di meglio di una vera baldracca da quattro soldi per ravvivare un po' a questo posto ma il nostro grande capofazione fedele allo schias che ci permette di avere 3% della trasformazione culturale contro il 2% di morale per tutte le unità e non c'è bisogno che vi spieghi il perché la invieremo la lista potrebbe tornarci comunque utile tratto acquisito di ciro più 2 l'influenza culturale ellenica e più 2 l'ordine pubblico della provincia locale ama i successori ottimi alleati tendono a presentarsi accompagnati dagli elefanti il che non è un male mentre invece l'ammiraglio bacide acquisisce un altro tratto interessante ovvero agoranomos l'onestà dovrebbe applicarsi in tutte le cose persino nelle trattative commerciali e come potete notare questi sono gli effetti positivi di tale tratto a questo punto però dopo aver tanto sofferto assieme dopo aver fatto ritirare i cinghiali è il momento di restituire loro sul campo di battaglia la stessa moneta infatti arriviamo con gli uccisori di ciclopi del pro dei poli per conte ma prima di fare questo è giusto assegnare un'abilità al nostro aristide da non confondersi col generale endimio infatti all'interno di questo esercito come ben sapete è presente questo eroe che addestra le unità rendendole implacabili anche quando non combattono porteremo eroe di guerra a livello 2 fervore militare più 4 all'ordine pubblico in questa azione 20% alla ricchezza dell'avventurarsi e una cosa interessante è meno 8 al morale per tutte le unità dell'esercito obiettivo in questa azione una volta applicato dunque questo nostro attributo al grande eroe a questo punto non ci rimane che togliere la marcia forzata molto pericolosa perché potremmo cadere nelle imboscate dei nemici e abbiamo una doppia possibilità spartani miei possiamo si marciare verso la grande bibracte ma ciò sarebbe pressoché inutile perché non solo i cinghiali non possono rifocillare i propri eserciti perché non sono più nel loro territorio di Lemonum ma anche perché da lato opposto invece la nostra città si riprenderà velocemente e con essa l'eroica guarnigione di cui fate parte se siete d'accordo è il momento di avanzare ma questa volta verso Cenabum prossimo nostro obiettivo e potete notare come i Corrigan spudorati abbiano subito presidiato la cittadina questo squallido borgo perché sanno che ormai la loro fine è giunta ora che abbiamo pianificato le prossime mosse per quanto riguarda il fronte ovest torniamo invece nel fronte est non sopporto assolutamente che i figli di Smertrios continuino a finanziarsi derubando le nostre rotte commerciali ed è per questo che li attaccheremo ed elimineremo una volta per tutte col grande nostro generale Ciro attacchiamo dunque questi farabutti che cercano di ritirarsi inutilmente ed è in questo istante che noi rincareremo la dose spazzandoli via dalla storia Damnazio Memorie parte 2 in questo istante logicamente non valgono il nostro tempo e dunque applicheremo velocemente una modalità aggressione che ci permette dunque di conficchiare il nostro Xiphos all'interno del cranio nemico e già c'è il barbaro riverso a terra uccidiamo dunque gli ultimi breuci della storia e un'altra fazione viene distrutta sotto il nostro comando e a proposito di comando anche i giganti livellano per sicurezza facciamo tornare il pro del generale Ciro all'interno della città e questo garantirà ad essa di non scendere troppo anche se si trova in una situazione veramente pericolosa in quanto perde 14 punti a turno ma una cosa per volta dedichiamoci dunque a selezionare qual è il miglior attributo per i nostri giganti barbari oppressori mai visto assieme la potenza di un'orda barbara è terrificante da affrontare più 10% al morale per tutte le unità durante le battaglie contro le tribù barbariche mi sembra assolutamente un'ottima mossa considerando il fatto che si trova Istros incastonata tra i monti c'è una cosa spartani miei che non sopporto più sono questi scaltri e maledetti insubri guardate infatti loro agire si trovano asserragliati adesso con due eserciti e spicca certamente il tumulto e i guerra fondai ricordiamoci che non possiamo attaccarli ancora ma allo stesso modo non possiamo neanche permettere che i nostri uomini vadano via via morendo mentre attendono un possibile attacco andremo dunque a togliere la fortificazione nei confronti del generale gelo e lo faremo marciare verso Istros in questo modo non solo rifocilerà il suo prode esercito che potrà così tornarci utile proprio nei confronti degli insubri quando sarà necessario ma allo stesso modo garantirà maggiore sicurezza nelle strade di questo borgo ancora di barbara origine a questo punto tutti gli eserciti sono mossi la cosa preoccupante però è che siamo a zero di pane e questo potrebbe ripercuotersi gravemente sull'ordine pubblico e sappiate che se questo dovesse succedere saremo costretti ad attaccare direttamente gli RDA perché spinti da fame non possiamo certamente mantenere questi grandi e lussureggianti eserciti ma questo è il momento di passare ai nostri agenti che devono lavorare sodo ed essere i nostri occhi e braccia dell'impero per quanto riguarda i carnuti dunque fronte ovest notiamo come l'esercito delle torque d'oro che abbiamo battuto e disintegrato pochi anni fa nel passo verso le monum sono state ripristinate e affidate al generale Aido la nostra valente spia adesso invece deve agire nei confronti di questo esercito ovvero dei Corrigan spudorati applicando un sabotaggio militare una fornitura di veleno sarà necessaria per avvelenare i fedeli al giuramento ed ecco che il sabotaggio militare riesce e la nostra spia livella di conseguenza il danno è stato applicato a tutte le unità ma particolarmente una che cala il suo numero di uomini cosa preziosa per noi la spia livella e dunque assegniamo velocemente un attributo anche a lei questo nostro episodio sta prendendo un aspetto divertente abbiamo prima parlato di meretrici e concubine adesso invece passiamo alla lavoratrice del bordello è sorprendente quanto può imparare fissando il soffitto raggiro tenta 4% la probabilità di successo di un raggiro assassinio trova un traditore più 10% più 2 all'ordine pubblico dato dai grandi personaggi non mi interessa da dove vengano i miei aiutanti l'importante che siano validi ed è quello che sono noto solo adesso che nei nostri territori stanno arrivando diversi nobili di pergamon dovremo controllare dunque anche la mappa globale per capire quali sono le evoluzioni che portano uno dei nostri alleati difensivi nei nostri territori dato che stiamo facendo rientrare gelo per rifocillarsi faremo uscire invece la nostra Edona e ciò ci permetterà di avere sempre uno sguardo fisso su questi maledetti insubri l'ultima nostra gente che dobbiamo interpellare è la nostra Eufro dobbiamo colpire questa maledetta Deuonia solo in questo modo infatti riusciremo a toglierla di mezzo possiamo provare con provocazione al costo di 459 talenti d'oro riusciremo infatti ad ucciderla proviamo assieme dobbiamo eliminare qualsivoglia opponente del nostro impero e infatti il nemico viene assassinato incominciano a piacermi questi agenti e soprattutto la facilità con cui livellano senza perderci in chiacchiere daremo consigliere spesso mi capita di rimangiarmi le parole ma mai il silenzio questo avrà degli ottimi risultati e ripercussioni sotto l'aspetto culturale della zona in tanti di voi mi avete fatto notare che le nostre strutture e le nostre città sono molto arretrate e dobbiamo fare in modo di espanderle ed evolvere chiaro che per fare ciò si serviranno molti soldi cosa che non abbiamo a causa dei grandi eserciti che stanziano nell'Europa centrale l'unica città che perde felicità è l'Ercinia ma abbiamo investito perché si riprenda seguendo dunque il vostro consiglio di controllare gli insediamenti per quanto le nostre finanze siano veramente basse noto che se gestica e l'ho notato anche voi da questa grafica di questo splendido game al suo interno ancora una fornace del bronzo che ci causa meno 10% all'ordine pubblico per squallore convertiremo questa zona ovvero la smantelleremo e nel prossimo turno avvieremo invece dei campi floridi che ci permettano così di rendere produttiva la città allo stesso modo la città di Lemonum che ha addirittura un carpentiere barbaro al suo interno che consuma 4 di cibo a turno andremo dunque a smantellare anche questa zona e ricordiamoci però che dobbiamo costruire o rischieremo che diventino dei bassi fondi mettiamo dunque a smantellare ogni traccia che ricordi il precedente possesso dei barbari è il momento dunque di dare un'occhiata al panorama mondiale ora che abbiamo slegato Bibracte attaccheremo i barbari dunque verso nord e una volta unificata tutta la Francia sicuramente amplieremo anche le possibilità del nostro impero potendo reclutare nuovi eserciti e così avanzare verso i nervi conquistando una regione alla volta oppure fermarci ed arricchirci per quanto invece riguarda gli RDA sono in una fase di stallo mentre la confederazione celtica a loro nemica si è insinuata nella traccia attaccandoli così all'interno a questo punto non ci rimane che procedere tutto quello che potevamo fare l'abbiamo fatto in quanto finché non riusciremo a sbloccare la situazione con i Carnuti null'altro si può prospettare di positivo per noi quindi mentre queste belle nuvole sorvolano la città libera di Bibracte noi passiamo il turno assieme pronti a mettere sotto assedio Cenabum chiudendo così il cerchio di quella che è stata una manovra rischiosa ma che ha premiato chi il rischio l'ha corso 120 avanti Cristo una rovente estate e Uodia viene scoperta ma ciò ci interessa relativamente mentre invece attenzione si è sviluppato un intrigo politico nei confronti di Endimio un tentativo di assassinio ma è rimasto ferito dobbiamo dunque scegliere un altro candidato ma a livello politico dobbiamo stare attenti perché siamo calati circa del 2% andremo a scegliere Mnasone un ottimo nome e le sue caratteristiche principali sono che dà più uno all'ordine pubblico dai grandi personaggi un vero peccato per Endimio perché stava giusto marciando verso i Carnuti probabilmente qualche nostro politico è stato unto dall'oro dei Carnuti e hanno così avviato questo tentativo di assassinio per quanto riguarda la popolazione ispirata dalla provincia ciò non può far altro che renderci contenti così come nella Magna Grecia e nella Corsica e Sardinia vi ricordo anche che abbiamo adesso 7000 nelle casse 1952 di crescita e 4 di pane partirei questo turno assieme andando a costruire laddove abbiamo distrutto le strutture barbare improntando principalmente le nostre risorse nel mantenimento delle truppe e questo è il vantaggio di aver conquistato un territorio al nemico andremo a creare così un podere la terra rende gli uomini atti a combattere bracciaforti e forza di volontà 4 il pane 40 la ricchezza derivata delle attività agricole invece per quanto riguarda la seconda struttura di Lemonum andiamo ad accodare cava attività produttive grande cava che fornisce materie prime per costruire ed espandere 100 la ricchezza derivata dall'attività manifatturiera dunque come avete notato Lemonum sarà una cittadina prevalentemente improntata a ricchezza e produzione non dimentichiamoci però che abbiamo lasciato la parte anche segestica che finalmente ha smantellato al suo interno ricorderete la struttura dei barbari e possiamo costruire anche qui un ottimo podere e quindi in un turno solo andremo a potenziare di 8 in pane le nostre derrate alimentari la cosa che però più ci interessa è il fatto che nel passaggio turno il nemico ha completamente cambiato obiettivo infatti ha desistito non ha più attaccato Bibracte dopo aver preso in faccia una battosta clamorosa che le abbiamo inflitto assieme scudo a scudo bensì sembrerebbe marciare verso Namnetum cosa pazza direi io in quanto non potrebbe certamente nulla contro il grande Girolamo ormai che continua a potenziare i suoi uomini e da questo punto di vista mi sento così sicuro che posso anche rimuovere queste due unità che paghiamo oro di mercenari e infatti notate subito come le nostre entrate vanno via via ad aumentare e per essere ancora più sicuro che questi maledetti cinghiali non tornino verso le Monum daremo loro un obiettivo principale infatti prima di procedere con la visione di qualsivoglia altra azione che riguardi il nostro grande popolo spartano noi adesso marceremo con gli uccisori di ciclopi il nome di Poliperconti riecheggia sempre nella mia mente verso appunto la capitale di regione di questi maledetti attacchiamoli dunque al cuore fedeli al giuramento o meno col nuovo generale Mnasone lo scontro è talmente impari che non richiede la nostra visione dunque andiamo a scegliere modalità aggressione che per il 77% di vittoria ricordiamoci che i nemici non sono i fedeli al giuramento ma anche la guarnigione consegnerà a Sparta un altro importante insediamento dunque procediamo col nostro Mnasone e vediamo se riuscirà a conficcare lo Xiphos direi proprio di sì e in un lago di sangue anche questo barbaro come i suoi fratelli si accascia al suolo in questo caso faremo una cosa particolare andremo a radere al suolo la città e questo ve lo spiego semplicemente se ricordate abbiamo poco pane e se dovessimo conquistare una città con alcuni insediamenti che ne consumano troppo soprattutto di Barbara origine potremmo andare in carestia e sarebbe uno smacco per noi dunque andiamo a radere al suolo l'insediamento per essere sicuro che esso non consumi per la nostra gente Mnasone dunque entra in città radendo al suolo tutto spaccando ogni cosa mentre invece noi andiamo ad aggiungere un'altra regione al nostro impero alla faccia di chi diceva che avanzando saremo stati sempre più lenti invece che più veloci direi che è stato smentito ampiamente facendo razzia avremo delle forti ripercussioni lato popolo d'altro canto però non siamo andati a toccare il pane che sicuramente sarebbe sceso trovando come dicevo edifici di Barbara origine a questo punto ci manca semplicemente Namnetum per unificare la provincia celtica e dato che l'altra città che compensa questa è Bibracte andremo sicuramente a costruire anche qui un podere e come seconda scelta invece un'officina che ci permetterà così di avere non solo le nostre prodi baliste greche ma anche armi e armature potenziate l'ultima cosa che ci rimane da fare è andare a convertire il borgo ellenico ed ecco dunque che le nostre gru cominciano subito l'opera di bonifica e di ricostruzione dovremo però stare attenti perché il calo della felicità sarà drastico ma preferisco una sola regione con felicità in calo rispetto a un impero senza pane a questo punto assegniamo subito stratega è più vantaggioso battere il nemico con l'astuzia che con la forza per il nostro omnasone e dato che ha 16 anni e non ha assolutamente un aiutante daremo Luis Gualdrina sono sicuro che la moglie dalla lingua tagliente non gradirà dato che molto tempo è passato e tante sono le cose che abbiamo affrontato in questo lungo gameplay a partire dall'epica difesa di Bibracte fino a arrivare alla recente conquista di Cenabum io vi dico che ci siamo ben comportati per la conquista mondiale una cosa interessante è che andiamo a scoprire anche due nuove civiltà mai viste assieme che sono poi quelle che si affacciano nell'Oderna Inghilterra nella Britannia ovvero gli Iceni e i Dumnoni vedete anche come abbiamo spezzato a metà i collegamenti che ci sono tra Namnetum e Nemetocenna e questo andrà a degradare ulteriormente il maledetto barbaro seguirò anche un consiglio che mi avete fornito ovvero Strenus se dovesse arrivare a conquistare Namnetum avrai unificato sì una regione ma che ti serve per adesso quella belgica se volete concentrarvi sugli RDA sono disposto a soggiogarli per la prima volta in questa nostra campagna e renderli così uno stato vassallo passatemi il termine per quanto non azzeccato a livello storico in questo modo potremo poi concentrarci verso est ma ricordatevi che le altre nazioni barbare non sono affidabili a voi dunque la scelta finale se proseguire con la conquista di tutto il nord e poi procedere verso gli RDA oppure fermarci rendere stato cliente i Carnuti e procedere così verso la prima guerra mondiale che da tanto aspettiamo e che da tanto bramiamo spartani miei spero che questo gameplay vi sia piaciuto se così è stato mi raccomando lasciate un mi piace tramite il quale io posso capire l'indice di gradimento di ciò che faccio commentate e condividete con i vostri amici e parenti serpenti nel giardino per ampliare sempre più il nostro grande seguito di spartani pro nell'anima da Strenus il generale discendente di Heracle è tutto spartani miei riposate perché la conquista mondiale è ancora lunga ciao in questa facciata puoi trovare gli ultimi due video che ho fatto e basterà cliccare su DS per raggiungerli se il video che hai appena visto ti è piaciuto lascia un mi piace lascia un commento e se hai voglia iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato alla prossima